Parliamo di una donna, di una grande donna. Parliamo di una donna, Caterina Maria Romula de' Medici. Probabilmente è il personaggio più importante di tutta la stirpe de' Medici. Diciamo se la dà con Lorenzo il Magnifico. Perché? Perché questa è stata regina di Francia, ma non una regina qualsiasi. Quindi forse la più importante tra le regine che hanno caratterizzato la storia della Francia. La Francia è sempre stato un regno al maschile perché c'era la regge salica, quindi le donne non potevano salire al trono. Sono due le regine di cui la storia di Francia parla spesso e sono Maria Antonietta e Caterina de' Medici. Però la differenza sostanziale... Maria Antonietta è quella che sappiamo fu decapitata a seguito della rivoluzione. La differenza sostanziale è che Maria Antonietta la storia l'ha subita. Non è stato un personaggio influente. Caterina la storia l'ha fatta. Perché per almeno trent'anni, per le vicende che l'hanno caratterizzato, poi lo vedremo, per almeno trent'anni ha caratterizzato la vita politica della Francia. Ma lo vediamo ora con calma. Nasce a Firenze il 13 aprile del 1519. Voi vi ricordate la volta precedente abbiamo visto le vicende della Firenze nel periodo in cui i medici erano sempre ricchi e potenti, però non lo erano a Firenze. Lo erano a Roma dove avevano preso alloggio abbastanza stabile nella corte pontificia perché due di loro sono diventati papi, ma questo l'abbiamo già visto. Abbiamo visto che i medici a Firenze in questo periodo vanno e vengono quando vanno, vanno per periodi abbastanza limitati e con ruoli secondari, personaggi secondari. E' in uno di questi periodi che nasce Caterina. Nasce da chi? Da Lorenzo de' Medici, duca di Urbino, che Leone X, Giovanni de' Medici, diventato papa, aveva fatto insegnare del titolo ducale, perché i medici, vi lo ricordiamo, non erano nobili. Però lui è papa e lo fa nobilitare e lo mette in sella alla Repubblica Fiorentina, quindi ripristina il potere che i medici avevano a Firenze. Poi con un accordo con il re di Francia lo fa sposare con Maddalena della Turdovernie, che era una nipote del re Francesco I. dai due nasce, lo scopo qual era? Lo scopo principale di tutte le casate nobiliari all'epoca, sia quelle con carichi di governo che quelle che non le avevano, era la successione. Cioè era necessario che nascessero degli eredi per poter continuare a esercitare il potere economico, politico che fosse. Questo è quello che vuole Leone X quando fa sposare con una principessa francese il proprio nipote che lui ha messo sul trono di Firenze e nasce infatti una figlia che si chiama Caterina, che viene affidata dalla nonna Alfonsina de' Medici, che era la moglie di Piero il Gottoso che abbiamo visto, sfortunato, eccetera, eccetera. Perché? Perché entrambi i genitori muoiono a distanza di poco tempo. La madre muore per febbre puerperali, cioè a seguito del parto, e il padre invece muore di sifilide. Quindi questa ragazzina rimane orfana e l'accudiscono prima la nonna Alfonsina de' Medici e poi la zia Maria Salviati. Maria Salviati la rivedremo più volte perché è un personaggio chiave nella storia della famiglia Medici. Maria Salviati era la figlia di Lucrezia Salviati, che era la figlia di Lorenzo il Magnifico, che aveva fatto sposare con i Salviati. Maria Salviati, quindi, è la nipote di Lorenzo il Magnifico, che si prende cura di questa bambina. Però le vicende dei Medici a Firenze, detto vanno e vengono, in un periodo in cui i Medici sono costretti a fuggire da Firenze, perché la Repubblica Fiorentina ha ripreso il potere nella città e nella regione, quindi i Medici vanno via da Firenze, ma la bimba rimane a Firenze e viene accudita da un gruppo di monache di clausura, le murate, ritorna al potere i Medici sul trono di San Pietro con un altro Medici, questo l'abbiamo visto la volta scorsa, Giulio De Medici, che diventa Clemente VII, quindi ritorna il potere Medicio a Firenze, perché Clemente VII, dopo aver subito il sacco di Roma, fa la pace con Carlo V che gli aveva mandato i Lanzi Chenecchi e negli accordi di pace c'era che gli spagnoli di Enrico V, di Carlo V, dovessero riportare i Medici in sella a Firenze, quindi ritornano i Medici a Firenze, c'è la serie, tutte cose che abbiamo visto la volta scorsa, e Clemente prende questa bimba e la porta con sé a Roma, dove riceve un'educazione straordinaria, perché questa bimba è molto intelligente, è molto vivace, appassionata di arte, di letteratura, quindi si fa apprezzare anche nell'ambiente pontificio e quindi diventa un perfetto soggetto per i matrimoni che poi era il compito delle femmine all'epoca. La donna doveva essere presentata e messa sul mercato dei matrimoni che non erano ovviamente matrimoni di sentimenti, erano matrimoni funzionali agli interessi della famiglia, in questo caso i Medici. Quindi è un buon partito, perché anche se non è una gran bellezza, però ha un sacco di soldi, appartiene a una famiglia tra le più ricche e rispettate d'Europa e soprattutto alla nipote del Papa. Quindi è un ottimo partito e quindi la casa con il Papa la dà al pretendente più prestigioso, cioè niente meno che il re di Francia. Ecco, questo è il complesso delle murate che poi diventerà carcere, dove la bimba è vissuta nel periodo della sede di Firenze. Quindi la riporta a Roma, dove i Medici hanno un palazzo di prestigio che è il Palazzo Madama, dove oggi c'è il Senato. Si chiama così perché si chiamava Palazzo Madama, quello che era la sede del Parlamento Sabaudo a Torino, però questo in realtà è Palazzo Medici, dove riceve un'ottima educazione. Impara il greco, il latino, quindi è una persona di una ragazza di elevata cultura e quindi il re di Francia, Francesco I, la prende nella sua famiglia. Quindi perché? Perché il secondo genito, che si chiama Enrico, diventa lui il promesso sposo. Quindi la bimba che ha 14 anni, mentre Enrico, che è il secondo genito di Francesco I, ne ha 15, si sposano. Viene celebrata il matrimonio con grande fasto. Qui c'è una raffigurazione del Vasari, dove si vede i due ragazzi che si sposeranno. Lui a 15 anni, lei ne ha 14. In mezzo c'è il Papa Clemente VII che li sposa. Questa è un'altra rappresentazione dello stesso evento e i due diventano ufficialmente marito e moglie. E come usava all'epoca, il re di Francia, padre dello sposo, e il Papa, tutore della sposa, assistono alla prima notte di nozze perché il contratto, perché il contratto era, si perfezionava se le cose fra i due funzionavano. Ebbene, le cronache raccontano che entrambi hanno assistito perché usava così, per essere certi che la cosa funzionasse, alla prima nozze di notte e entrambi hanno verbalizzato che i due ragazzi si erano dati un bel da fare. Quindi diciamo che il matrimonio è consolidato, però Clemente VII muore e diventa Papa Paolo III che disconosce il contratto che aveva fatto il suo predecessore con il re di Francia, che prevedeva una ricca dote, prevedeva una dote che Clemente VII molto furbescamente aveva messo in conto alle casse pontifice, no? A quelle della famiglia. Quindi Paolo III nega la dote e soprattutto toglie alla bimba, alla ragazza che ormai è diventata la moglie del secondo genito del re di Francia, gli toglie il titolo ducale che aveva. Quindi questa ragazza si ritrova senza soldi e senza titolo ducale. Però il re di Francia l'apprezza, gli vuole bene. Perché? Perché Francesco I era stato in Italia, aveva visto cos'era l'Italia, aveva apprezzato la cultura, la civiltà, l'arte, quindi era innamorato dell'Italia. E questa bimba così sveglia, così colta, così recettiva, lui l'apprezza molto. E l'apprezza anche la regina Eleonora d'Asburgo, che quindi la inseriscono nel loro entourage più ristretto. La Catrina, che oltretutto, ripeto, oltre a essere intelligente e anche comprende l'importanza del suo ruolo, impara da Francesco le regole del regnare. Francesco è un re illuminato. Qui vediamo un'immagine di Francesco I che assiste alla morte di Leonardo da Vinci, perché come Francesco I sarà portato in Francia a Leonardo da Vinci e benvenuto Cellini. Quindi, dicevo, si crea una situazione dove questa ragazza dalla corte ristretta del re è ben accetta, è apprezzata, è ben voluta. Ma il resto della nobiltà francese era tutt'altro che convinta. Non la poteva sopportare. Perché? Perché era una figlia di banchieri, non aveva titoli. E in Francia l'aristocrazia, che all'epoca aveva grande potere anche nel controllo della Casa Reale, era formata dai nobili di astrazione tradizionale, i nobili rurali che vivevano nei castelli, che avevano il mito della cavalleria, erano uomini d'arme, non erano abituati alla cultura e all'arte che c'era invece nella nobiltà italiana che abbiamo visto protagonista del Rinascimento. Al contrario, loro erano sempre attaccati al blasone, al mito delle crociate e quindi questa ragazza che non aveva titoli, che non era francese e che non apparteneva a questo mondo, non viene accettata, anzi viene osteggiata in tutte le maniere. Poi succede una cosa importante. Nel 36 muore Francesco, che era il primo genito e quindi il delfino. In Francia il delfino è l'erede al trono, si chiama così perché il principato del delfinato aveva accettato l'annessione al regno di Francia di cui non faceva parte a condizione che l'erede al trono ne recepisse la carica con il nome del del principato, quindi il delfino è l'erede al trono. Quindi muore Francesco e il secondo genito Enrico diventa lui il delfino e Caterina diventa la delfina. Quindi questo rende ulteriormente forte il dissidio che la nobiltà francese ha nei confronti della ragazza. Dissidio che aumenta perché? Perché più il tempo sta passando gli anni e quest'erede al trono, che era il dovere principale di una principessa, non arriva e non arriverà per dieci anni. Al punto, ecco qui ci ho messo questa boccetta di veleno perché? Perché naturalmente quando muore Francesco l'accusa che viene fatta è che la Caterina che viene dall'Italia, terra dei veleni, l'ha avvelenato. Perché? Perché Caterina viene dall'Italia e l'Italia è la terra dei veleni, degli intrighi, quindi il veleno che in effetti va detto che a quell'epoca in Italia correva come l'acqua fresca. Anche se io ho letto una volta una citazione che mi è piaciuta, citazione che non mi ricordo, mi pare Erasmo da Rotterdam, un personaggio del genere, non me lo ricordo, che dice l'Italia è stata terra di intrighi, di veleni, di cattiverie, di soprusi, però al mondo ha dato Leonardo, Michelangelo e Raffaele. La Svizzera che è stata terra di democrazia e di libertà, al mondo ha dato gli orologi a Cucu e questo è un quattro che io cito volentieri. Comunque viene accusata di averla avvelenato, cosa a cui il re non ha mai creduto. Poi c'era Diana di Poitiers, personaggio chiave che era la favorita di Enrico, perché Enrico si dà da fare con Caterina perché gli si vuole l'erede e l'erede viene se i due fanno, però Enrico era innamorato di Diana di Poitiers, che era favorita perché usava a quell'epoca. Ecco, questo è un personaggio chiave nella vicenda che ulteriormente qualifica come estremamente intelligente il personaggio di cui stiamo parlando, cioè Caterina De Medici. Diana di Poitiers era molto bella, era considerata una delle donne più belle e più intelligenti della Francia. Addirittura si favoleggiava che aveva il seno più bello di tutta la Francia, giudicare da questa immagine non sembra, ma insomma era poi una donna molto intelligente di cui il re era innamorato. La cosa fondamentale da dire è che la differenza di età, perché aveva vent'anni e questa gente aveva quaranta. A quarant'anni a quell'epoca una donna era già anziana e invece lei è sempre bella, giovane e tonica, si racconta che avesse una cura maniacale del proprio corpo, che facesse tutti i giorni un bagno nell'acqua fredda per tonificare la pelle, insomma fatto sta che è la favorita. Quindi il re è innamorato di lei e non della moglie, ma questa era una situazione quasi normale all'epoca, solo che Caterina la sfrutta in modo intelligente, cioè non solo non ostacola questo legame, ma fa amicizia con la Diana di Poitiers, l'accetta nell'ambito della corte ristretta e accetta il suo rapporto con Enrico. Questo gli tornerà molto comodo anche, frutto dell'intelligenza di questa donna, perché quando passa il tempo e l'erede non arriva e saranno dieci anni prima che arrivi, ora lo vedremo, la nobiltà della Francia, che appunto ha sempre avuto in odio la nostra Caterina, chiede l'annullamento del matrimonio, chiede il ripudio. Bene, Diana sarà lei a opporsi con tutte le sue forze. Perché? Perché aveva interesse anche lei che il rapporto si mantenesse buono con la Delfina. Perché? Perché lei pensava, se questo vi ne prende una meglio di me, io sono fritta. Invece se invece questa vi rimane al suo posto, l'equilibrio che si è creato è positivo, a me mi va bene, siamo tutti contenti. Quindi la Diana di Poitier diventa un'amica, anche se non è vero, come dicono alcune storie, che avrà influsso nell'educazione dei figli. Perché poi ne arriveranno di figli. E ne arriveranno perché? Perché i due si mettono nelle mani... Ecco, io ritorno un attimo. Insomma, diciamo che i motivi per cui Federico Enrico la preferiva, insomma, non è che sia una gran bellezza, tenendo presente che normalmente i pittori sono sempre indulgenti nel fare il ritratto. Viene chiamato Jean Fernelle, che è un famoso medico il quale visita i due giovani, teniamo presente lei a 24 anni e l'una a 25, sono sempre giovani, ma sono dieci anni che sono sposati e i figli non arrivano. Li visita e trova dei problemi di funzionalità da parte di lui, cioè è lui colpevole. Non era una malattia, era un problema di carattere funzionale che viene individuato, corretto, e i figli arrivano e ne arriveranno ben dieci, di cui due gemelli. Quindi il rischio di pudio per mancanza di eredi decade. Non solo, ma il primo genito è un maschio. Poi nel 1547 c'è l'incoronazione. Perché? Perché l'abbiamo visto. Il delfino è morto di malattia e quindi lui, Enrico, che era il secondo genito, diventa lui il delfino e nel 1547 viene incoronato presso l'abazia di Saint-Denis, quindi diventa re di Francia col nome di Enrico II e lei diventa regina, anche se ha un ruolo marginale. Perché? Perché abbiamo detto le donne non contavano. Però siamo sempre nel periodo delle guerre d'Italia. Quindi Enrico II va in Italia a fare una delle tante campagne, l'abbiamo visto che si succedevano con una certa frequenza. Ora l'assenza per una campagna in Italia durava al minimo due o tre anni. Quindi Caterina svolge la funzione direggente. È la prima volta e succederà molto spesso. Andiamo avanti. Vediamo che le guerre d'Italia finiscano con la pace di Cato Cambresì, quindi che sostanzialmente mettono in luce la superiorità della Spagna, perché ve lo ricordate, la Spagna ha preso il controllo con Carlo V del Sacro Romano Impero e quindi ha un livello di superiorità e quindi la pace di Cato Cambresì segna infatti il declino della Francia nel controllo dell'Italia. Ecco, quindi riprende la vita pacifica, però succede un evento che Enrico II, il re, che era atletico, ai tante e amava gli sport che si frequentavano allora, tra cui quello più diffuso tra i nobili era la giostra, il torneo cavalleresco, dove due signori armati di tutto punto si sfidavano a cavallo con la lancia in resta, però le lance non avevano la punta, avevano davanti un tozzetto tondo e erano fatte di legno di legno sottile, di legno tenero, che al primo contratto si spaccavano per evitare di fare danni, no? Quindi erano tutto sommato esercizi di attività incruenta, uno dei due cadeva, l'altro aveva vinto, però succede che una scheggia della lancia che si è rotta nel controllo nel confronto attraverso la visiera dell'elmo entra nell'occhio di Federico e lo ferisce in modo grave. I medici cercano di curarlo, addirittura si racconta che presero dei condannati a morte, gli infilarono la scheggia nell'occhio per imparare a toglierla ai condannati a morte intendo, tanto doveva morire, però insomma non credo che abbiano apprezzato. Il fatto sta che riescono a togliere questa scheggia, ma il re muore a seguito delle ferite. Ora io apro una parentesi perché non c'entra nulla, però è una parentesi perché nello stesso identico modo è morto Ailton Senna, a Imola. Ha avuto un incidente, è andato a sbattere in un muro e un pezzo della sospensione anteriore della macchina, dell'auto, della macchina di Formula 1, quindi un pezzetto di metallo, gli ha sfondato la visiera e l'ha ferito nello stesso identico modo con cui era stato ferito Enrico. Quindi, vabbè, questa è una parentesi, una curiosità. Quindi lei diventa regina, reggente, è il 1559 e diventa la regina nera. Perché? Perché una delle tante cose, le vedremo più avanti, che lei porterà in Francia dall'Italia, dove in Francia non c'erano. Era il nero come colore del lutto. Quindi, d'ora in avanti, lei sinceramente addolorata perché il re a lei non l'amava, amava Diana, ma lei il re lo ha amato e quindi prova grande dolore per la morte del re. E da allora in poi comincerà a vestirsi di nero. Da qui il nome la regina nera, in segno di lutto. Quindi è lei la reggente. C'è il Delfino, che è Francesco, è un altro Francesco, ma ha dieci anni, quindi non può governare. Lei trova quindi il modo di esprimere la reggenza e si organizza. Quindi riorganizza il regno. Teniamo presente che all'epoca non c'era la corte, come intendiamo oggi, la reggia. Perché? Perché in Francia i nobili, compreso la famiglia reale, vivevano sempre nei castelli. Come nel piano medioevo. I reali e i ricchissimi se li facevano in zone amene, quasi tutte lungo il corso del fiume Loira. I castelli della Loira sono oggi un'attrazione importante nella Francia turistica. Sono al terzo posto. Al primo c'è Parigi, al secondo c'è Le Mosse e Michel e al terzo ci sono i castelli della Loira. Quindi ecco, mentre invece la capitale era a Parigi, ma non era la sede della reggia. Quindi la Caterina, che stava nel castello di Chaumont, mentre la Diana stava nel castello di Chenonceau. Caterina dice, io sono la regina, io decido dove stare, Chenonceau mi piace di più, quindi io regina vado a stare a Chenonceau. Però si comporta in modo signorile perché alla Diana di Poitiers, che era la favorita del re, il re è morto, gli poteva dare anche un calcio nel sedere e invece molto signorilmente gli concede il castello di Chaumont dove abitava lei. Cioè c'è uno scambio di castelli. Gli mantiene un appannaggio e gli consente di vivere una vita dignitosa. Nel frattempo anche lei è invecchiata perché insomma Giovanni l'aveva. Quindi Caterina si sistema il castello di Chenonceau che è il più famoso dei castelli della Loira. Fa costruire il lamo, non è sulla Loira, è sulla Sher che è un affluente della Loira, però è in quella zona lì. Fa costruire il ramo ponte, questo qui, che lei li ricorda il ponte vecchio, fa costruire i giardini all'italiana, che sono questi, ecco, dove lì lei vive la sua vedovanza, diciamo così. Io sono stato a visitare il castello, dice non so, nell'85 più o meno e era completamente disadorno, cioè le stanze erano vuote. Ci sono tornato a distanza di una ventina d'anni, quindi già a periodo dell'euro e ho trovato che il castello era completamente arredato. Quindi evidentemente è stato ricostruito l'arredamento, quindi è una scenografia, non è un arredamento, però dà l'idea. E lì c'è percepito chiaramente il mito di Caterina de' Medici, perché da tutte le parti si parla di lei, a cominciare dai giardini, questo è il grande corridoio che dà sul fiume, ecco, questa è la camera di Caterina de' Medici, tutta nera in segno di lutto, anche se, ripeto, è stato ricostruito perché la prima volta non c'era niente e i giardini sono indicati a Jardin de Catherine de' Medici, cioè hanno rivalutato, ce n'era bisogno la figura di Caterina de' Medici, poi ne parleremo del suo ruolo, però l'hanno tradotta in francese e loro lo fanno. Però diciamo che in questo sito è proposto in modo positivo il mito di Caterina de' Medici. Ecco, qui lo vediamo con i figli, quindi lei è in questo momento reggente, cioè in pratica è lei che regge le sorti del regno di Francia e si trova in un pessimo momento. Perché? Perché in Francia sta imperversando la guerra di religione. Ci sono due fazioni della nobiltà francese, quella dei Guisa, che sono gli ultracattolici, e quella dei Coligny e dei Condé, che invece sono protestanti, sono ugonotti. L'odio religioso, che vedremo poi, l'abbiamo visto, chi mi ha seguito negli anni scorsi, abbiamo parlato a lungo della guerra dei Trent'anni, cioè la guerra, la prima vera guerra europea, che si è combattuta fra sostenitori della fede religiosa protestante e sostenitori dei cattolici. Ecco, un preludio a questa guerra europea si era avuto proprio in Francia, dove metà della nobiltà era ugonotta, gli ugonotti sono i protestanti, quindi in genere calvinisti, e l'altra metà era cattolica. Lei è cattolica, però cerca di mantenere una situazione di equilibrio molto difficile. Perché? Perché le due fazioni sono ferocemente in lotta fra di loro e danno origine a quella che è considerata una vera e propria guerra civile. Francesco II nel frattempo diventa re perché lui è il delfino, è il figlio primogenito di Caterina e di Enrico, quindi diventa re ma è piccolo ancora e quindi continua la reggenza della madre che quando arriva la maggiorità gli mantiene il potere, quindi Francesco diventa re ma gli mantiene il potere, però muore anche perché di salute cagionevole e gli subentra il secondo genito che è Carlo, che diventa re con nome di Carlo IX, quindi la regina di Francia perché assume questo ruolo così importante? Perché è anche favorita dagli eventi, perché il marito gli muore, il primogenito gli muore, poi vedremo anche Carlo IX gli morirà, quindi lei tutte le volte si trova a dover sopperire ai maschi di famiglia che muoiano come le mosche. Quindi Carlo IX diventa lui re. Allora siamo sempre, ripeto, in piena guerra civile. Caterina convince il re che è diventato nel frattempo Carlo IX a cercare un accomodamento tra i Guisa e i Coligny, cioè una sorta di editto di pacificazione. È l'editto di gennaio che è redatto da Caterina. È un evento rivoluzionario perché? Perché sancisce in pratica la libertà di culto, cioè la regina dice agli ugonotti voi avete diritto di professare liberamente il vostro credo, basta che ci restituiate le chiese che avete occupato e che non le dovete occupare. Fatevi le vostre chiese, pregate come vi pare e questo perché è importante? Perché è la prima volta nel mondo cattolico dove si separa la religione dallo Stato, perché finora le due entità erano strettamente connesse fra di loro. Quindi c'è un editto di gennaio che stabilisce una sorta di prima pacificazione. Carlo IX nel frattempo diventa re perché ha raggiunto la maggior età e quindi comincia a regnare, ma subisce molto l'influenza della madre, anche se ha delle deviazioni pericolose che poi vedremo. Nel 1564 la regina e il nuovo re, seguendo un'idea della regina stessa, è quella di fare il grande viaggio in Francia, cioè quella di andare in tutti i territori dove il regno di Francia aveva potere. Anche questa è una novità, perché? Perché i sudditi periferici, il re, non saprà nemmeno chi era, non c'erano le comunicazioni di oggi. Quindi questo questa idea di Caterina di convincere il re a andare a farsi conoscere su tutto il territorio, vedete, e abbraccia tutta la Francia odierna. Quindi questo grande viaggio che durerà oltre due anni e che servirà a, diciamo, a fidelizzare i sudditi nei confronti della monarchia. Poi nel 67 c'è la sorpresa di Meaux. Cos'è? È un agguato che i rappresentanti della fazione cattolica comandata dal duca Francesco di Guisa fa al re e alla regina una sorta di attentato che non riesce. Perché? Perché i cattolici non accettano questa importanza, questa libertà che è stata data ai loro avversari. La sorpresa di Meaux è un attentato, dicevo, che non, che fallisce, però che rimette in discussione il dissidio e quindi riprende la lotta fra le due fazioni che è sanguinosissima. I protagonisti della parte avversa sono il principe di Condé e Gaspar de Coligny, che è un ammiraglio. Una parentesi, il principe di Condé, qui chi è più preparato nelle vicende letterarie, si ricorderà che il secondo capitolo dei progressi sposi comincia. Cosa fece il principe di Condé prima della battaglia di Rocroa? Andrà a dormire. La stessa cosa la farà Don Abbondio che la mattina dopo deve affrontare Renzo che si vuole sposare e lui ci va, ci dorme sopra, eh? Anche se il Manzoni dice che il principe di Condé ha dovuto dormire dove aver sistemato tutte le cose. Mentre invece Don Abbondio va a dormire ma non ha sistemato nulla. Ecco, è un altro principe di Condé. La battaglia di Rocroa è l'atto finale della guerra dei trent'anni e di lì passerà altro mezzo secolo. Quindi non è quel principe di Condé. È un altro. E l'ammiraglio Gaspar de Coligny sono i protagonisti, i capi della fazione Ugonotta. Nel 1570 c'è un nuovo tentativo della regina di pacificare la situazione con l'editto di Saint Germain che sembra funzionare meglio anche perché la regina di concerto col figliolo che è il re Carlo IX organizza il matrimonio della figliola Margherita che è diventata storicamente importante come la regina Margherita 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 che non è per niente contenta con uno dei capi della fazione Ugonotta Enrico di Navarra che è un borbone. I due si sposano e il matrimonio ha solo lo scopo di pacificare le due fazioni perché lei è cattolica e lui è Ugonotto. Quindi il matrimonio si celebra con tutto il fasto che richiede. Arrivano da tutta la Francia a festeggiare il matrimonio che doveva sancire la pace fra le due fazioni però nella realtà il matrimonio viene celebrato ma subito dopo le fazioni si riscatenano perché perché viene assassinato Gaspar de Couligny. Chi ha dato l'ordine di assassinarlo? Secondo la storiografia antimedicia è stata la regina. Fatto sta che viene assassinato il Gaspar de Couligny che era un amico del re per cui è possibile che non sia stato il re a dare l'ordine di assassinarlo ma che sia stato invece o la regina o quelli della fazione di guida cioè gli ultracattolici. Fatto sta che questo assassinio è visto dal re con grande tormento per cui a quel punto la situazione sfugge di mano e viene dato l'ordine di uccidere tutti i diugonotti che sono convenuti a Parigi per le nozze. Quindi è l'occasione d'oro. La storiografia a lungo ha accusato la regina di averla organizzata. Sarà una strage tremenda. Moriranno migliaia di persone anche se vicende, una storiografia più recente fa presente che fra i morti c'erano la maggior parte erano conotti ma c'erano anche tanti cattolici per cui si presume un po' che non sia stata una strage a senso unico ma poi si presume anche che in una notte di terrore dove non c'è il controllo legale sulla città si siano sovrapposti alla dissidi di religione anche tanti dissidi personali quindi amanti traditi mariti traditi debitori creditori non pagati insomma che sia successo un po' di tutto. Fatto sta che è stata una tragedia eh assoluta cioè una strage assoluta soprattutto ordita a tradimento perché questa gente erano venuti qui per festeggiò un matrimonio ecco a lungo responsabile di questo eccidio è stata accusata la regina mentre invece non è la storiografia più recente è portata a a a scagionarla cosa dicono gli storici di ecco qui è l'immagine che avvalora questo questa teoria cosa dicono gli storici più recenti è probabile che lei si sia presa la colpa per salvaguardare il figlio che in realtà avrebbe dovuto dare lui l'ordine cioè Carlo nono cioè il figlio che era il re abbia detto avete ammazzato il mio amico Gaspar di Coligny che ne era il capo tanto vale che li ammazzate tutti poi la cosa è sfuggita di mano e quindi la strage è dilagata senza controllo ecco però eh la storiografia più recente cerca a discolpare la regina Caterina che ha trovato un ostacolo grande nella letteratura e anche nel film di recente perché un film che ha raccontato la vicenda la regina Margot dove Caterina è interpretata da una monumentale Virnalisi che è straordinaria che riesce ad apparire brutta lei che in realtà era bellissima anche di avvecchia ecco nel film si dà tutta la colpa a lei la quale viene anche accusata di avere avvelenato sia pure per sbaglio il figlio che come vedremo pur tardi morirà ecco tutto questo non è supportato da documenti storici ma è supportato da un romanzo di di Dumas la regina Margot che è un romanzo che quindi racconta vicende romanzate ma queste le vedremo meglio più avanti fatto sta che questo ha alimentato il mito della regina nera nel 1564 muore Carlo nono secondo il film che riprende il romanzo di Dumas Carlo nono muore per avvelenato per sbaglio dalla regina Caterina che voleva in realtà avvelenare il genero cioè Enrico di Navarra e invece per sbaglio come lo vuole avvelenare con lo stesso sistema del nome della rosa cioè la pagina il libro con le pagine avvelenate che con la bagliando la saliva portandola alla bocca come succede nel nome della rosa no la stessa cosa in realtà il libro lo legge per sbaglio Carlo nono che quindi muore lui avvelenato con grande dolore della regina in realtà la storia dice che Carlo nono è morto di tubercolosi questa è un'ulteriore prova che queste vicende di cui si parla eh in realtà sono vicende più romanzesche che storiche gli succede Enrico III che era diventato re di Polonia è il terzo genito che era il preferito da Caterina è considerato il più intelligente Caterina l'aveva mandato a fare il re in Polonia perché a quell'epoca succedeva in questo modo se li scambiavano quindi Enrico ti torna dalla Polonia e diventa re di Francia Caterina compie il secondo viaggio per la Francia perché perché lei ha capito che è importante farsi vedere quindi fa un viaggio dove si presenta i francesi e riesce a conquistarne molti favori fa riconciliare Margherita con Enrico Enrico e Margherita si erano sposati per pacificazione lo ricordate l'ho detto poco fa poi Enrico era stato imprigionato aveva fatto la biura era scappato era stato ripreso quindi lei le fa riconciliare e comincia la guerra dei tre Enrichi perché si scontrano riprende l'ostilità di tipo religioso si si scontrano Enrico di Guisa che è il capo dei cattolici ultransisti Enrico di Navarra cioè il marito di Margherita il genero di Caterina che è un borbone e Enrico Enrico Terzo che è il figlio di Caterina riprendono le ostilità in modo selvaggio Caterina cerca di intavolare trattative con i Guisa sempre per tutelare il figliolo le trattative non vanno a buon fine quindi a quel punto entra in gioco Enrico di Navarra che si mette d'accordo con Enrico di di re Enrico contro i Guisa e c'è la giornata delle barricate dove dei tre due che sono uno cattolico Enrico è un po' un casino ma cerco di 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 spiegarlo in termini semplici dei tre contendenti due erano cattolici e uno protestante allora il cattolico ultransista vedremo poi che viene ammazzato quindi rimangono in ballo Enrico di Navarra che è un borbone Enrico figlio di Caterina c'è la giornata delle barricate dove Caterina entra in ballo per vedere di risolvere la situazione e affronta i rivoltosi a Parigi cioè non non si perita di mettersi a alla testa delle delle fazioni per cercare di di pacificarle viene assassinata Enrico di Guisa ma lei muore a 69 anni qui vediamo la sua sepoltura che sarà postima insieme a Enrico secondo il marito nella cattedrale San Denis dove sono sepolti tutti quanti i medici i re di Francia quindi muore l'anno dopo muore ora ritorniamo un attimo indietro l'anno dopo muore di malattia Enrico Enrico Dan Gio il figlio di di Caterina quindi quello muore di malattia quell'altro è morto ammazzato dei tre Enrico rimane in piedi Enrico di Navarra che è un Borbone ed è lui che diventa re e sarà il primo re della famiglia Borbone quindi con tutto ciò da fare Caterina non è riuscita a salvare la famiglia degli Enrico che si estingue al suo posto subentrano i Borbone che resteranno in sella finché ti resterà in sella la monarchia quindi sarà il Borbone Luigi XVI che verrà ghigliottinato ed è un Borbone Luigi XVIII che sarà una restaurazione effimera dopo la rivoluzione francese quindi Caterina muore il suo personaggio è contraddittorio però è fondamentale nella storia di Francia oggi si cerca di rivalutarla se non altro perché gli viene riconosciuto quello che oggi si chiama mettere la faccia lei è sempre stata protagonista per quale motivo per salvaguardare la famiglia e i figlioli non è esatto dire che lei l'ha fatto per i francesi perché perché a quell'epoca non esiste il concetto di nazionalismo i sovrani come i papi abbiamo visto governavano unicamente nel per salvaguardare gli interessi della propria famiglia il nazionalismo comincerà dopo la rivoluzione francese io individuo sempre le dico con cautela queste cose perché quando a me mi viene di pensare una cosa ma non la trevo non la trovo scritto sui libri di storia ho il timore che sia una bischerata però secondo me il nazionalismo che poi diventerà normale nell'ottocento e nel novecento dove gli eserciti combattono per difendere un ideale nazionale il nazionalismo il patriottismo iniziano con la battaglia di valmi che è del 1793 perché è tre anni che è scoppiata la rivoluzione francese la famiglia reale in francia è prigioniera della repubblica le altri corti che in un primo momento avevamo visto il re di francia era quello più mal visto di tutti cioè una lezione lì ci li fa bene poi dopo ritornerà tutto come prima invece non accade perché la diplomazia delle altre casate regnanti di alburgo romanov cominciano a preoccuparsi dice qui bisogna andare a rimettere le cose a posto perché questa rivoluzione comincia a diventare pericolosa allora il re di prussia dice ci penso io sono il più vicino sono al di là del reno vado a parigi libero il rimetto tutto a posto così la nostra di le nostre dinastie si tranquillizzano e cosa succede succede che a parigi il direttorio ha preso dal panico perché perché l'esercito francese non c'è più non esiste più si è dissolto perché era formato da mercenari che non pillano più la paga gli ufficiali erano tutti i nobili quindi i nobili sono spariti tutti e quindi c'è il panico e allora cosa fa alla repubblica fa la leva militare ingaggia prima i volontari e poi recluta con una leva militare tutti gli uomini doni che gli servivano e si forma un esercito di popolo gli eserciti gli ufficiali non ci sono allora cosa fanno fanno le elezioni soldati leggono i più carismatici più valorosi che sono gli ufficiali e si forma un esercito di popolo i fucili ovviamente c'erano gli uniformi c'erano e quindi si for e quindi a valmi si incontrano due mondi da una parte un esercito che era di proprietà esclusiva del re di prussia l'esercito di antico regime che combatteva per lo stipendio di qua si forma un esercito di popolo formata da persone che combattono per difendere la propria patria le proprie famiglie il proprio territorio qui nasce il nazionalismo e il patriottismo che sono due cose diverse da non confondere ma ora non vogliono divagare troppo nazionalismo ricorda mussolini patriottismo ricorda mazzini sono due figure molto diverse comunque quindi non è per nazionalismo che la regina eh Caterina ha fatto tutto questo ma è indubbiamente per un dovere che ha risvolto all'Alexandre Dumas ne ha eh favorito l'immagine negativa soprattutto con questo suo regi con questo suo libro immagine negativa che è stata favorita anche dalla cultura borbonica perché i borbone sono subentrati agli angiò hanno tutto l'interesse a screditare alla famiglia che c'era prima però fortunatamente un altro grande autore che è onore de balzac la rivaluta e la rivaluta in pieno è importante questo fatto perché perché la regina eh Caterina de' Medici noi l'abbiamo ora analizzata sotto l'aspetto storico ma ha portato in Francia un costume il che non esisteva eh si racconta che avesse avuto con frequentazioni con Nostradamus ma io non questo non lo trovo interessante la regina Caterina ha portato in Francia il rinascimento italiano in Francia mangiavano con le mani lei ha portato un sacco di novità la la cavalcata alla mazzone l'ha inventata lei cioè quella che cavalcare con la sella sinmetrica e per fare questo ha reso necessario in Francia nessuno le conosceva l'uso delle mutande che ora si chiamano culotte perché perché i francesi non le portavano non le conoscevano ha portato in Francia i profumi perché in Italia era diffuso l'uso del profumo c'erano anche gli etruschi però d'altra parte gli italiani per antenati hanno avuto i romani e gli etruschi in Francia per antenati avevano avuto i galli figuriamo si conoscevano il profumo ha portato il tacco alto le scarpe col tacco perché perché l'era piccina quindi il tacco alto è un'invenzione di Caterina de' Medici poi era grassottella e allora ha inventato il corsetto per assottigliare il punto di vita tutte queste cose la nomiltà francese che era una nomiltà guerriera non le conosceva per niente e ha portato la cucina francese in Italia la cucina già allora era un'arte in Francia no non esisteva il modo di pensare alla non esistevano le ricette ha portato l'uso della forchetta perché in Francia mangiavano ancora con le mani ha portato l'uso della forchetta perché era una maniera di mangiare senza usare le mani ha diviso i dolci dai salati e ha e ha diviso la scienza della cucina da quella della pasticceria qui perché perché lei si è portata da Firenze i profumieri i cuochi i pasticceri e la grande meraviglia della cucina francese di cui oggi la Francia giustamente mena il vanto nasce dalla cucina fiorentina le canard all'orange eh lana tra l'arancia era il papero al melarancio le crepe sono le crespelle l'omelette sono le frittate la bechamel che a cui ha dato un nome un cuoco di Luigi XIV era la salsa colla che conoscevano anche i fiorentini la soup d'oignon e la zuppa di cipolle le macaron sono gli amaretti cioè sono tutte cose di cui i francesi si sono appropriati legittimamente gli hanno dato il loro nome però sono tutte specialità che ha portato da Firenze Caterina de' Medici quindi la sua figura va riabilitata sotto questo profilo perché ha portato in Francia una cultura una una raffinatezza che non c'era perché ripeto i potenti eh francesi la nobiltà francese era tutta permeata dal valore cavalleresco dal mestiere delle armi vivevano nei castelli e non conoscevano le raffinatezze che invece erano già acquisite in Italia ripeto il mito di Caterina de' Medici si è notevolmente eh è stato notevolmente rivisto dalla storiografia recente è un po' cessato il metodo della regina nera sanguinaria che ripeto soprattutto era dovuto al fatto di della letteratura francese in particolare di Dumas quindi e io non a caso ho detto che è questo forse il personaggio più importante nella eh l'orologio elettronico che mi dice che è scaduta l'ora però io sono rimasto nei termini è la più importante fra le figure dei medici poi ci sarà un'altra regina perché Enrico III muore e quindi diventa re Enrico IV cioè quello dei Borbone che per diventare re dovrà fare la viura quella importante a lui è dovuta la famosa frase Parigi val bene una messa quindi anche se lui era capo degli Ugonotti si converte diventa cattolico e diventa lui il re di Francia che ha per sposa la Margot cioè la figlia di Caterina poi la figlia di Caterina muore e Enrico IV già ormai diventato quarantenne si risposa e chi sposa un'altra medici la Maria de' Medici che però vedremo un'altra volta che è la figlia di Francesco de' Medici quindi io sono finito nei tempi ora mi riprendo interrompo la condivisione ecco riprendo il controllo della del baccellaio e al solito io vedo con piacere che siete rimasti quasi tutti e al solito se c'è qualcuno che ha qualche domanda da fare se io sono in grado rispondo se no non rispondo cioè dico non lo so io spero di avervi convinto che questo è un grande personaggio eh bravo bravo è una grande donna una grande donna grazie allora la prossima volta riprenderemo il nostro cammino in Toscana e parleremo di come nasce il Gran Ducato di Toscana con altri grandi personaggi saluto a tutti vi ringrazio dell'attenzione alla prossima e state bene grazie buonasera 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 grazie mille grazie ciao 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 ciao